Oggi vi voglio raccontare una storia, quindi immaginatevi di avere, che qui ci sia un fuoco acceso e che lo zio Simo inizi a raccontare questa favola, che in realtà non è una favola, è tutto vero, è la storia della mia vita e della storia del mio rapporto con i mentor, con i mentor che ho avuto nella mia carriera, che io all'epoca, quando li ho avuti, non li ho mai identificati come tali, li posso identificare adesso come mentori, perché mi rendo conto che il rapporto che ho avuto con loro ha avuto un impatto. Ci tornerò alla fine su questo punto, quando avrò raccontato un po' il tutto, però voglio partire dall'inizio. Allora, la prima persona che oggi posso ritenere di essere stato un mentore nella mia carriera è stato il mio primo collega lavorativo. Io arrivavo dall'università, o almeno da quei pochi mesi di università che ho fatto, perché io dopo aver fatto il percorso da perito informatico ho fatto qualche mese di università, poi ho capito che non avevo più voglia di studiare e quindi sono andato immediatamente a cercare il lavoro. Ho trovato questa azienda composta all'epoca da due persone, molto piccola, in cui c'era questo ragazzo che aveva dieci anni più di me, tuttora dieci anni più di me, e che è stata la prima persona a introdurmi sulla professione tecnica. Ora, io che tipo di persona ero ai tempi, ero uno sbarbatello, un ragazzino, avevo 19 anni e a me interessava semplicemente mettere le mani sul codice, era la mia passione, era quello che facevo normalmente a casa nel tempo libero, sperimentavo, facevo cose anche abbastanza sconclusionate a caso, infatti non mi aspettavo assolutamente di iniziare, quindi quando sono andato a fare il colloquio ho mostrato quello che avevo, che era veramente poco e niente, uno o due sitarelli fatti con front page all'epoca, quindi con pochissimo codice, e sulla base di questo si sono fidati in me. Ma ovviamente, ecco, questo è già stato il primo aspetto, si sono fidati in me non dal punto di vista di dire ok, questa persona entra e inizia già a fare cose per noi, ma entra e lo costruiamo. Questo è stato il primo aspetto che nel tempo mi rendo conto essere stato determinante, nel senso che non c'è stata un'aspettativa nei miei confronti, però avevano visto le mie potenzialità, almeno lui aveva visto le mie potenzialità, e da diamante grezzo in quale potevo essere, poi magari non ero proprio un diamante, diciamo una pietra dal dubbio valore, sono stato modellato. Questa è stata la cosa che quella persona che oggi posso considerare un mentor ha fatto nei miei confronti, mi ha modellato, mi ha modellato ma non da un punto di vista tecnico, perché non mi ha assolutamente mai condizionato dal punto di vista delle tecnologie, dal punto di vista del modo di scrivere codice, mi ha condizionato però dal punto di vista di essere professionale, cioè mi ha insegnato come lavora un professionista, mi ha insegnato anche tantissimo dal punto di vista delle soft skills, mi ha insegnato a non arrabbiarsi mai, a non dare troppo peso a determinate situazioni, a saper affrontare anche situazioni negative e situazioni positive, mi ha insegnato veramente tanto da quel punto di vista e soprattutto mi ha insegnato quelli che sono i trucchi, i trucchi del mestiere, per quelli che potevano essere all'epoca, oggi chiaramente quello che ha fatto nei miei confronti non ha più un così grande peso come lo potevo avere ai tempi, però all'epoca mi aveva insegnato assolutamente a stare in un ambiente lavorativo, questa è stata la cosa che quella persona ha fatto nei miei confronti maggiormente, poi chiaramente tutta un'altra serie di aspetti anche tecnici che oggi posso riconoscere comunque come essere stati estremamente importanti perché mi hanno permesso di partire bene. Io ho fatto anche altre esperienze parallelamente anche a quell'attività, però mi rendevo conto come in altri ambienti non c'era quella percezione di saper comprendere, non c'era un aspetto empatico ecco, non c'era un aspetto di comprensione di com'è l'altra persona che è davanti, quali sono magari le sue necessità, le sue ambizioni e quindi non c'era un aspetto di volontà di far crescere una persona, ma ci si aspettava che quella persona fosse già completa così com'è. Ecco questo è quello che ho saputo riconoscere poi nel tempo come un aspetto di mentoring, cioè quella persona si è messa anche un po' a mia disposizione e non era mai la persona a cui io andavo a chiedere la nozione tecnica, quindi io non mi aspettavo mai che lui mi desse la risposta tecnica ad un mio dubbio. Non lo intendevo come l'unica fonte da cui attingere in caso di problemi. Mi ha insegnato comunque anche a saperscindere il momento in cui potevo e dovevo chiedere a lui dal momento in cui invece era il caso che i problemi mi smazzassi da me. È stato chiaramente graduale come approccio, però mi ha insegnato e mi ha fatto capire quando e come determinate cose avessero più senso che fossero fatte da soli, in autonomia, da sperimentare e da sporcarsi le mani rispetto a andare a chiedere a una persona con più conoscenza e ad un professionista. E questa è una cosa che io tutt'oggi cerco anche di trasmettere, cioè capire bene qual è la differenza tra una persona che è lì per insegnare un concetto tecnico e una persona che è lì per insegnare invece a essere un professionista, che sono cose completamente diverse e gli obiettivi sono ovviamente totalmente diversi. Poi c'è stato un altro mentore fondamentale. Io di queste cose ne ho parlato già in altri video, però non ho mai parlato particolarmente nel dettaglio, soprattutto di questa seconda persona non ho mai parlato perché mi sono focalizzato su quelli che sono stati secondo me i miei mentor dal punto di vista professionale intesi come nella carriera tecnica e nell'ambito in cui lavoro tutt'oggi. Ma c'è stato uno che, riguardandomi indietro nella mia storia, nella mia carriera, ha avuto un impatto veramente molto molto forte, anche perché è stato probabilmente il rapporto più lungo che ho avuto, perché è durato all'incirca una decina d'anni, e che praticamente non c'entra assolutamente nulla con la programmazione, però c'entra sotto diversi altri aspetti. Io per tanti anni ho avuto una carriera parallela nell'ambito della musica elettronica, produzione musicale, DJ e anche organizzazione di eventi notturni. E ho avuto a che fare con questa persona che, quando io l'ho conosciuto, era già un DJ abbastanza affermato qua nella zona, e che mi ha preso quasi immediatamente sotto la sua ala. Mi ha insegnato a comporre musica elettronica, mi ha insegnato a stare dietro una console, mi ha insegnato anche a organizzare eventi, perché siamo arrivati a collaborare insieme anche dal punto di vista di organizzare eventi insieme. Mi ha insegnato anche a lavorare a business paralleli, quindi c'è stato tutto un rapporto di quasi alla pari, anche se alla pari non eravamo, perché io ero sempre il ragazzino che stava lì per imparare, e lui era quello che invece faceva praticamente concretamente le cose, essendo più di esperienza era quello che veniva coinvolto, sia dal punto di vista di fare delle attività, di organizzare qualcosa, però lui si portava sempre dietro me. E io da questa cosa ho imparato veramente tantissimo, perché lui riusciva a spiegarmi come funzionavano i meccanismi anche di empatia che ci sono in quell'ambiente, perché comunque quando si va a lavorare con la gente, la gente che deve essere coinvolta negli eventi, o che deve ballare durante le serate, ci sono degli aspetti empatici molto particolari. Bisogna stare molto attenti a come funziona la pista, se stanno succedendo determinate cose in una zona del locale, se ci sta scaldando troppo, insomma ci sono veramente tanti fattori e questo lui mi ha insegnato a vederli. Ci sono stati chiaramente anche dei momenti negativi, nel senso che ad un certo punto percepivo di essere un po' tarpato, perché io pensavo di essere a un certo livello e di poter fare determinate cose, invece dall'altra parte mi sentivo bloccato, non mi veniva data la possibilità di esprimermi. In altri momenti invece questa possibilità mi veniva data e io lì cercavo di dare tutto. Poi a volte la disattendevo e quindi tornavo un po' indietro, a volte invece mi andava bene, quindi continuavo per la mia strada. Però quello che percepivo anche in questo caso era il fatto di avere qualcuno che cercasse in qualche modo di modellare la mia persona senza forzarmi a essere qualcosa che non ero, ma il cercare di vedere le mie potenzialità e cercare di farle elevare. Secondo me il mentoring funziona bene quando c'è uno scambio da entrambe le parti. Se il mentee, così come si chiama, l'allievo, semplicemente si aspetta che tutto quanto arrivi dal mentor probabilmente non funziona abbastanza questo tipo di collaborazione, perché comunque di collaborazione si tratta. Cioè ci si mette praticamente spalla a spalla a fare un percorso e questo percorso deve essere uno scambio. Io comunque credo di aver dato, di aver fatto percepire che cos'ero, che cosa volevo, che cosa potevo fare, quale potevano essere le mie potenzialità in modo tale che i mentor potessero lavorare su questa potenzialità e cercare di farle evolvere secondo una evoluzione assolutamente naturale, quindi senza mai spingermi particolarmente in una direzione o farmi bruciare le tappe, però cercando di farmi andare nella direzione giusta con i tempi giusti e momenti giusti, facendomi vedere anche dalla loro esperienza cosa sarebbe successo se fossi andato in una direzione o in un'altra. E questo mi ha fatto imparare tantissimo, perché poi magari sul momento non ero in grado di percepirlo, ma nel tempo quella capacità di anticipare le situazioni, di vedere quando era il caso di fare una cosa, di fare un'altra, soprattutto questo me l'ha dato molto, il fatto di aver lavorato a contatto con il pubblico nella mia attività da DJ, organizzatore di eventi, me l'ha dato veramente tanto, sapere quando la gente si aspetta una cosa e quindi lavorare in un certo modo, oppure quando è il caso di anche togliere un po' il piede dell'acceleratore, insomma mi ha dato veramente tanto, quindi aver avuto queste persone che mi hanno tracciato la via è stato veramente determinante. Oggi non credo di poter dire che avrei potuto fare esattamente la stessa strada senza queste persone, probabilmente l'avrei fatto, avrei fatto però 100.000 errori in più, quindi quello che ai tempi io ho cercato, anche magari senza rendermene conto, è sempre stata una guida, non ho mai cercato qualcuno che mi insegnasse, non ho mai chiesto a queste persone insegnami, ho sempre chiesto a queste persone di accompagnarmi, di mostrarmi come loro lavoravano in modo tale che io potessi apprendere dalla loro esperienza e questo è esattamente quello che io poi ho cercato di fare negli anni. Oggi mi sono reso conto di essere stato anch'io mentor, ora lo sono chiaramente in forma più ufficiale, però nei tempi io sono stato mentor di altre persone, non me ne sono mai reso conto all'epoca, però esattamente quello che ho fatto è quello che ho ricevuto io come trattamento. Quindi nel momento in cui ho avuto a che fare con persone che magari stegisti, ecco qui sì più dal punto di vista professionale nell'ambito tecnico, ho avuto a che fare con persone magari stegisti o usciti da corsi professionalizzanti organizzati qui dalla regione o dalla provincia che avevano un minimo di capacità, che avevano voglia di entrare in questo mondo, io quello che ho fatto è esattamente la stessa cosa che ho ricevuto io come trattamento, le stesse cose che hanno fatto con me, quindi le ho messi alla prova, le ho dato responsabilità, cosa che io ho ricevuto immediatamente che mi ha fatto percepire di avere un valore. Ecco il fatto di essere messi comunque immediatamente di fronte a delle problematiche concrete fa alzare di molto l'autostima di una persona, perché si percepisce dall'altra parte di avere qualcuno che crede nelle potenzialità. Questo è assolutamente molto importante che un mentor faccia, un mentor deve credere nell'altra persona e deve dargli l'opportunità di confrontarsi con quelle che sono le situazioni vere. Quando un mentor fa questa attività l'altra persona reagisce chiaramente in un certo modo per uno spirito anche di sopravvivenza, quindi quello che io ai tempi inconsciamente ripeto, adesso posso dire di farlo più consciamente perché ho studiato, ho analizzato e so che va fatto in un certo modo, ma i tempi l'ho fatto assolutamente inconsciamente. Però a quanto pare ha funzionato perché comunque una persona che tutt'oggi collabora con me e che mi piacerebbe anche portarvi come esperienza, quello che ho fatto con lui è stato proprio metterlo immediatamente di fronte a delle problematiche e dirgli studiati questo, guardati quest'altro, poi ci confrontiamo anche dal punto di vista professionale. È partito come stegista, poi adesso è un freelance anche abbastanza affermato e in tutto questo percorso c'è sempre stato un rapporto di scambio, ma mai da dire fai questo e non ti fare domande, ma è un guarda puoi fare questo o puoi fare quest'altro, se fai questo può succederti questo, se fai questo succede di quest'altro, però impara tu a prendere delle scelte, poi se vuoi ci confrontiamo e io ti dico da un confronto assolutamente alla pari quello che può essere una scelta migliore o peggiore, ma la scelta rimane sempre in capo a te. Oggi questo, ripeto, è un qualcosa che io faccio in maniera più consapevole, proprio perché ho deciso di fare anche questo lavoro, così come anche altre persone hanno deciso di farlo insieme a me e quindi c'è alla base di tutto un'analisi di quello che effettivamente devono essere le caratteristiche di un mentor, ma in tempi è stata una cosa assolutamente non prevista, però se devo ripetere oggi quello che un mentor fa quotidianamente è comunque avere un rapporto empatico con la persona, discutere assolutamente alla pari con questa persona e dare la possibilità di esprimere il potenziale per far sì che la persona stessa percepisca di avere delle qualità. È un po' particolare come rapporto, perché le persone sono abituate chiaramente ad avere qualcuno che gli dice di fare le cose per filo e per segno, loro semplicemente devono seguire, però così non si costruisce una personalità. È un mentor e qualcuno che rispetto a un docente o altre figure aiuta a far costruire la professionalità. Questa credo sia la differenza maggiore tra le altre figure professionali che si occupano di formazione. Però in questo caso la formazione è proprio non tanto teorica o tecnica, ma proprio nel formare anche degli individui che siano in grado di stare al mondo. Ora, ho detto tutta questa cosa per raccontarvi la mia esperienza con i mentori, di quanto sono stati fondamentali nella mia vita. Io oggi quello che posso dirvi è spero di essere io o i miei colleghi mentor di Tomorrow Devs la stessa cosa che gli altri sono stati per me. Quindi se li avete già sfruttateli al massimo e come dicevo non cercate di forzare troppo la cosa, però cercate di averli. Che siamo noi o siano altre persone non importante, chiunque a un certo punto della propria vita può essere un mentor o può avere un mentor. L'importante è rispettare questi canoni. Il mentor è qualcuno che fa queste cose anche in maniera estremamente disinteressata, quindi è difficile anche trovare persone che abbiano questo tipo di attitudine. Però quando si trovano hanno veramente un valore inestimabile, inestimabile perché senza questo tipo di rapporto tutte le cose diventano più difficili, non impossibili ma più difficili. Però sono quel tipo di persone che per via delle esperienze che hanno fatto possono assolutamente spianare la strada di una persona. Vi ho raccontato abbastanza, 20 minuti di video credo che siano anche troppi. Vi ringrazio di avermi seguito, spero che il video vi sia piaciuto. Come al solito condividetelo, mettete un like se vi è piaciuto, scrivetemi ai commenti la vostra esperienza con il vostro mentor o del perché voi siete stati il mentor di qualcuno, entrate a far parte della community su Telegram, seguitemi su LinkedIn, Twitter non lo so perché a questi tempi forse è meglio lasciarlo perdere e ci sentiamo nel prossimo video. Ciao!